Inizio gennaio, forse già il 2, ma non c'è ancora una data certa per il prossimo incontro tra i tre capi di Stato della Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale e il presidente uscente della Costa d'Avorio. Laurent Gbagbo, ieri dopo oltre due ore di riunione con i presidenti di Benin, Capoverde e Sierra Leone, ha ribadito la propria intenzione di restare al potere respingendo il verdetto delle elezioni favorevoli ad Alassane Ouattara, l'uomo riconosciuto dalla comunità internazionale come il nuovo legittimo presidente. Una presa di posizione è considerata un'ingerenza da Gbagbo, che ha risposto minacciando di tagliare le relazioni diplomatiche con i paesi che la condividono. Europa e Stati Uniti avevano adottato nei giorni scorsi il divieto d'ingresso per il presidente, la moglie e altri 17 funzionari. Il congelamento dei conti bancari e il blocco dei beni è stato invece disposto dalla Banca Centrale dell'Africa Occidentale. Un nuovo passo verso l'isolamento politico ed economico dell'uomo forte della Costa d'Avorio. Un nuovo passo verso l'isolamento politico ed economico dell'uomo forte della Costa d'Avorio.